Ma quindi non è vero quello che si legge in questi giorni che Scano ha dato indicazioni di andare al mare o votare Casson? No, no, non è assolutamente vero. Queste sono appunto letture e interpretazioni che dà anche una certa stampa locale. Non mettetemi in bocca parole che non ho mai detto. Il messaggio di Davide Scano è chiaro. Il terzo classificato alle elezioni di Venezia con il 12% delle preferenze lancia un messaggio chiaro a chi in questi giorni ha tentato un approccio con proposte che per il Movimento 5 Stelle possono essere definite indecenti. La giacchetta l'ho lasciata in armadio proprio perché la smettano di tirarmi per la giacchetta. Devo dire che la situazione in questi giorni sta prendendo dei tratti improbabili, nel senso che tutti ti cercano, cercano i nostri attivisti, tutti i simpatizzanti, la gente che si sa che ha votato il Movimento 5 Stelle e soprattutto il sottoscritto. Ci sono esponenti appunto dei due schieramenti che sono in ballo ma anche presunti mediatori. Il candidato del Movimento 5 Stelle toglie la giacca dunque, non vuole avere pressioni e rimanda al mittente le offerte. Depositerà nei prossimi giorni da un notaio 5 punti programmatici. Cassone e Brugnaro poi decideranno se sottoscriverli tutti o soltanto alcuni. Gli elettori dei 5 Stelle decideranno con la propria testa. Per come è stata impostata la campagna elettorale però con l'hashtag Liberiamo la città dal PD, la direzione scelta sembra essere chiara. Non è che possiamo imputare le responsabilità ad altri. Se la gestione è stata del PD, si imputano le responsabilità al PD e ovviamente a tutti quei cespugli di partiti che hanno accompagnato il PD.